Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV e SOP, di cui trovate i link in descrizione. La promessa. Anticipazioni della lunga puntata pomeridiana di giovedì 25 e della puntata Maria si reca nella camera di Pia, e le comunica di aver rimandato le nozze perché non si sente sicura Pia la conforta, dicendo che se non è sicura ha preso la decisione giusta, e le consiglia di seguire ciò che sente il cuore, indipendentemente da ciò che pensano o dicono gli altri Successivamente, Maria annuncia che lei e Salvador renderanno presto pubblica la notizia Mentre Alonso cerca Lorenzo, incontra Cruz, e le comunica che Lorenzo desidera il rimborso del prestito, e in caso di impossibilità, ha il diritto di richiedere una parte della promessa Cruz non sembra sorpresa da questa notizia, né si dispera come Alonso si aspettava Lei commenta che da Lorenzo ci si può aspettare di tutto, e non è sorpresa che abbia agito in malafede Pia, mentre mette a posto i suoi indumenti nei cassetti, trova una bottiglietta con un liquido in uno dei cassetti di Gregorio Leggendo l'etichetta, rimane sconvolta, è cicuta La stessa sostanza che il medico aveva ipotizzato venisse somministrata a lei per farla ammalare e abortire In quel momento, Gregorio entra nella stanza, e Pia fa appena in tempo a nascondere la bottiglietta Gregorio la trova visibilmente sconvolta, e le chiede se sta bene Pia, fingendo, risponde di sì, e Gregorio ne approfitta per scusarsi per aver reagito male quando lei gli ha detto che non voleva più lasciare la promessa Cruz è ancora con Alonso, e gli racconta che Lorenzo, tempo prima, è andato a trovarla alla casa di cura E le ha mostrato delle lettere che rivelano che la baronessa Elisa ha ucciso il suo primo marito per ereditarne i beni Alonso è molto sorpreso da questa notizia, e si domanda cosa devono fare con Lorenzo Alla promessa si presenta una nuova coppia, che si rivelano essere il fratello di Alonso e sua moglie Li accoglie Romulo, e prima di incontrare la famiglia, i due coniugi chiedono una camera dove poter riposare un po' Mentre Cruz e Alonso discutono ancora di Elisa, arriva Romulo che annuncia loro l'arrivo alla promessa di Don Fernando e Donna Margarita Romulo spiega di aver dato ai coniugi la camera precedentemente lasciata libera dalla baronessa Elisa E Alonso si meraviglia del fatto che non abbiano nemmeno salutato Poi, Alonso chiede a Romulo se ha avvisato Martina dell'arrivo dei suoi genitori Ma Romulo spiega che Fernando ha chiesto di non farlo Si è fatta sera, e mentre Ana sta facendo dei massaggi alle mani a Imena Arriva Cruz, e chiede a Imena se vuole un po' di compagnia Tuttavia, Imena rifiuta, con la scusa che sta per andare a letto Rimaste sole, poi, Imena confessa a Ana di sentirsi soprafatta da Cruz Che sembra interessarsi solo al bambino che lei porta in grembo e non a lei Catalina si reca da Simona E le comunica di aver seguito il suo consiglio di parlare con suo padre Alonso riguardo alla questione di Lorenzo Simona risponde che Catalina è una ragazza intelligente E che dimostrerà a tutti quanto vale nella vita Ma le ricorda anche che non è sola Tutti hanno bisogno degli altri per ricevere aiuto E soprattutto, è importante circondarsi di buoni compagni di viaggio Maria e Ana si preparano per andare a letto E Maria nota che Ana è molto felice Ana rivela a Maria di essere contenta perché Curro è innamorato Ma non può rivelare di chi Successivamente, Ana chiede a Maria come sta E quest'ultima risponde che si sente male Ma allo stesso tempo è come se si fosse liberata di un peso Annullando le nozze Ana commenta che si sente così perché ha fatto qualcosa di giusto Si è fatto mattino E i membri della servitù sono riuniti per la colazione Mentre si discute dell'arrivo del fratello di Alonso alla promessa Arriva Salvador Maria coglie l'occasione per comunicare a tutti che hanno deciso di rinviare le nozze Poiché Salvador, da quando è tornato dalla guerra, non sta bene e ha troppi attacchi di ira Quindi si sposeranno quando Salvador starà meglio Romulo gli augura una pronta guarigione Mentre Lope esce improvvisamente dalla cucina Lope sorprende Simona e Candela mentre escono dalla promessa E dopo aver chiesto dove stanno andando Loro rispondono che si dirigono a Luan Perché sono preoccupate per Don Carlos che è scomparso Lope è preoccupato di rimanere solo in cucina E le prega di tornare il più presto possibile Petra raggiunge Cruz in giardino E Cruz le confida di essere contrariata Perché la sera precedente Imena ha avuto l'audacia di cacciarla fuori dalla sua stanza Pur mantenendo le buone maniere Petra afferma che i duchi hanno educato male Imena Ma Cruz risponde che appena sarà nato il bambino la rimetterà al suo posto Teresa si reca in lavanderia dove trova Ana Le due parlano di Imena E Ana confessa di provare sentimenti contrastanti nei suoi confronti Da una parte, prova odio per il modo in cui manipola le persone Come fa con Manuel Dall'altra, prova compassione Perché vede in lei una piccola ragazza indifesa A chi cerca solo di attirare l'attenzione Salvador arriva arrabbiato in cucina E spintonando Lope Lo accusa di aver gioito quando ha saputo del rinvio del matrimonio tra lui e Maria Uscendo dalla sala per nascondere la sua gioia Lope nega ogni accusa Affermando che se Salvador ha passato momenti terribili in guerra Non è certo colpa sua Ana vede Pia nel corridoio E la segue nel suo ufficio per chiederle se sta bene Notando che quella mattina sembrava pensierosa Pia risponde di stare bene e di non aver bisogno di nulla Ma Ana insiste Pia, irritata, reagisce bruscamente Quindi Ana decide di andarsene Curro e Martina giocano e scherzano Lasciandosi trasportare dal momento e scambiandosi baci come due ragazzini Tuttavia, la loro spensieratezza viene interrotta quando Teresa entra nella stanza E informa Martina dell'arrivo dei suoi genitori alla promessa Martina rimane scioccata dalla notizia E quando Teresa se ne va È così sconvolta da avere quasi un mancamento Tanto che Curro deve aiutarla a sostenersi Alonso chiede a Lorenzo di concedergli più tempo per rimborsare il debito Ma Lorenzo risponde che è impossibile Perché ha l'opportunità di fare un ottimo investimento e non vuole lasciarselo sfuggire Alonso lo accusa di averlo ingannato e di voler prendere una parte della promessa Ma Lorenzo nega falsamente Martina è ancora sconvolta per la notizia dell'arrivo dei suoi genitori Ma Curro le suggerisce che forse è un segno del destino E che ora, con i genitori presenti, possono finalmente dire a tutti cosa c'è tra di loro Tuttavia, Martina non è d'accordo E se ne va Cruz e suo figlio Manuel stanno facendo colazione Quando si presentano anche Don Fernando e sua moglie Cruz e Manuel li accolgono cordialmente E proprio in quel momento arrivano anche Martina e Curro Martina si avvicina per salutare i genitori E sua madre, senza dire una parola, le dà un sonoro schiaffo Lasciando tutti senza parole Cruz rimprovera Margarita per i suoi metodi Ma i genitori di Martina sostengono che Martina meriterebbe una punizione più severa Dopo quello che gli hanno fatto passare In quel momento arriva Alonso E Fernando gli chiede perché non gli ha avvertiti che Martina era la promessa Alonso non comprende questo rimprovero E Margarita invita Martina a confessare Quest'ultima spiega di aver lasciato che Leonor andasse a studiare a Parigi al suo posto Utilizzando il suo nome Mentre i genitori credevano che fosse Martina a Parigi Catalina sta discutendo con Lorenzo Poiché non accetta l'idea di cedere dei terreni che appartengono alla loro famiglia da secoli Tuttavia, Lorenzo non molla e insiste nel chiedere il risarcimento del suo debito il prima possibile Durante la colazione, i genitori di Martina affermano che anche Leonor avrebbe meritato uno schiaffo Poiché è colpevole quanto Martina Tuttavia, Alonso non condivide tali metodi E avvisa il fratello che, finché rimarrà la promessa, non dovrà alzare le mani su Martina Curro sta passeggiando in giardino con Martina E lei gli spiega che i suoi genitori hanno già pianificato il suo futuro Desiderando sposarla con un uomo ricco Curro afferma di essere benestante e di buona famiglia Quindi non ci sono problemi Ma Martina, piangendo Gli confida che la situazione è molto più complicata di quanto sembri In camera, Alonso e Cruz discutono del pessimo servizio della cucina di quel giorno Poi, parlano di Leonor, esprimendo sorpresa per la bugia che ha raccontato sono per andare a Parigi Mentre stanno parlando, vengono interrotti dall'arrivo di Catalina, che si lamenta di Lorenzo È ancora contraria a cedergli le terre della tenuta Alonso e Cruz le spiegano che purtroppo non hanno altra soluzione E devono accordarsi con lui Si fa sera E finalmente Candela e Simona tornano alla promessa Quando entrano in cucina Trovano Lope molto affranto perché la cena è venuta male senza l'aiuto delle cuoche E i marchesi non l'hanno gradita per niente Proprio in occasione degli ospiti Le cuoche si scusano con Lope, e spiegano che hanno avuto problemi con la diligenza che le avrebbe dovute riportare a casa Pia e Gregorio sono a letto Mentre Gregorio dorme, Pia è sveglia E ripensa al momento in cui ha trovato la bottiglietta di cicuta Poi, si alza e si avvia verso la porta per uscire Ma Gregorio si sveglia e lei torna a letto Lui la abbraccia e la bacia, ma lei lo allontana, chiedendogli di riposare, nonostante sia molto preoccupata e pensierosa Catalina si dirige in cucina, e chiede a Simona perché la cena della sera precedente non è stata buona Simona spiega che ha cucinato Lope, una ricetta che non aveva mai preparato prima E questo perché lei e Candela sono andate in paese a cercare Don Carlos Racconta che sono passate dalla sua casa, ma non c'era E i vicini hanno detto che non lo vedevano da giorni Quindi, sono andate alla scuola, ma neanche lì c'era E così hanno fatto tardi e hanno perso la prima diligenza Mentre la seconda ha avuto un guasto a metà strada Alonso e Fernando stanno leggendo il giornale in salotto Quando Fernando accusa nuovamente Alonso di non avergli detto che Martina era la promessa Alonso ribadisce di aver pensato che lo sapesse E gli chiede come possa incolparlo di qualcosa di così stupido Quando invece lui non si è neanche degnato di fare le condoglianze per la morte di Tomas Vengono interrotti dall'arrivo di Manuel che presenta Imena a Fernando Ma quest'ultimo coglie anche questa occasione per lanciare frecciatine ad Alonso Il quale, irritato, lascia la stanza Teresa si trova in lavanderia con Maria E le chiede se il suo matrimonio sia stato annullato definitivamente o solo posticipato Maria risponde che è stato solo rimandato Teresa ipotizza che forse il matrimonio è stato rinviato per paura O perché Maria non ama più così tanto Salvador Ma Maria si irrita Poiché è stanca di sentirsi commentare sul fatto che ha rinviato il matrimonio E così se ne va Mentre Ana sta dirigendosi nella camera di Imena con una crema alle mandorle per idratare la pelle Viene intercettata da Cruz La quale le dice che quella crema non serve a niente E le consiglia di smetterla di girare attorno a Imena Ana, irritata, comunica alla Marchesa che la prossima volta che Imena avrà qualche dolore dovrà chiamare il medico Perché lei non ha intenzione di prendersi cura di lei ancora La Marchesa è compiaciuta E Ana se ne va Romulo parla con Pia E si meraviglia del fatto che non si sia accorta che il giorno precedente in cucina mancavano le cuoche Dato che normalmente queste cose non le sfuggono Quindi le chiede se sta bene Poiché ultimamente la vede pensierosa e distratta Ma Pia risponde di stare bene e di essere solo un po' stanca Cruz raggiunge Manuel Che sembra irritato perché non ha potuto partecipare alla competizione propostagli da Don Pedro Tutto per assicurarsi che la gravidanza di Imena proceda nel modo migliore Cruz spiega che è per questa ragione che ha deciso di portare un dottore alla promessa Manuel non sembra entusiasta E dice che Ana si sta già occupando di Imena Ma Cruz ribatte che è stata proprio Ana a suggerire di chiamare un medico Manuel ribadisce comunque a sua madre Cruz Che i genitori del bambino sono lui e Imena E saranno loro a decidere cosa è meglio per il bambino Manuel raggiunge Ana per chiederle se è vero che ha detto a Cruz Che è meglio che si occupi un dottore di Imena Ana conferma E spiega che lo ha detto perché Cruz le ha nuovamente impedito di avvicinarsi a Imena Cruz si reca da Alonso E gli chiede di parlare con suo fratello Fernando Invitandolo a rimanere qualche giorno alla promessa E nel frattempo di cercare di risolvere le cose con lui Questo è tutto per proteggere Martina Poiché temono che possa subire maltrattamenti una volta che se ne saranno andati Inoltre sperano anche di convincere Fernando a lasciare Martina a casa loro Poi discutono di Leonor che li ha ingannati per mesi e che dovrebbe essere punita Tuttavia alla fine concordano che se è felice a Parigi La lasceranno lì piuttosto che vederla triste alla promessa Maria è in ansia perché Ana non è ancora tornata ed è sera tardi In quel momento, arriva proprio Ana, che le racconta di essere tornata alla sua casa d'infanzia E di aver lasciato un biglietto qualche giorno prima E sembrerebbe che qualcuno abbia risposto a quel biglietto Ana lo fa leggere a Maria, la quale si spaventa per quella risposta Dicendo che non è affatto amichevole E sembra che chi l'ha scritta conosca bene Ana Ana dice che vuole scoprire chi sia questa persona Ma Maria cerca di dissuaderla Temendo per la sua incolumità, ma senza successo Pia va in cucina E rimprovera duramente Simona e Candela per essere uscite il giorno precedente senza avvertire E per aver lasciato Lope da solo Di conseguenza, proibisce loro di lasciare il palazzo d'ora in avanti E dichiara che non possono permettersi di essere licenziate, né lei, né le cuoche Catalina racconta a Manuel come Lorenzo abbia ingannato lei e suo padre Alonso con un contratto Il cui fine era quello di appropriarsi di una parte della promessa Catalina dice di sentirsi tremendamente in colpa per non essersi accorta di nulla Ma Manuel la rassicura Dicendole che sta mandando avanti la tenuta in modo eccellente E che, se anche ha perso una battaglia, ancora non ha perso la guerra Salvador si avvicina a Ana mentre sta raccogliendo le lenzuola stese E le chiede cosa ne pensa del rinvio del matrimonio A Ana, afferma che, a suo parere, la decisione di posticipare il matrimonio è la scelta giusta Curioso di capire se c'è ancora speranza per lui, Salvador domanda se Maria lo ami ancora Tuttavia, Ana si rifiuta di rispondere, sottolineando che è una questione estremamente personale Invece, suggerisce a Salvador di affrontare direttamente Maria, di parlare con lei apertamente e sinceramente Ana gli consiglia di riflettere sul passato, di riconquistare Maria attraverso gesti e parole che richiamino i momenti più belli della loro storia Suggerisce di tornare indietro nel tempo, di ricordare cosa lo aveva fatto innamorare di lei Alonso convoca in privato suo fratello Fernando, desideroso di avere un confronto franco e risolvere le tensioni tra di loro Vuole proporre a Fernando di prolungare la loro permanenza alla tenuta per qualche giorno in più, nella speranza di chiarire i loro disaccordi Fernando, inizialmente determinato a ritornare a casa con sua moglie e Martina il prima possibile Riflette sulla proposta di Alonso Pur non essendo particolarmente entusiasta dell'idea, decide di accettare l'invito di rimanere Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva, vuole discuterne con sua moglie Margarita Salvador chiede a Maria se ricorda il momento in cui si sono conosciuti Maria, con un sorriso nostalgico, ricorda la prima volta in cui ha visto Salvador mentre tagliava la legna Tuttavia, Salvador, desideroso di scavare più a fondo nei ricordi condivisi, le chiede quando si sono conosciuti veramente Maria, riflettendo, ricorda il giorno in cui sono andati insieme a raccogliere mirtilli per l'Ope Di fronte a questo ricordo, Salvador propone l'idea di ritornare in paese dove avevano trascorso quel momento speciale, per rivivere quelle emozioni e sensazioni Maria accetta, desiderosa di immergersi ancora una volta nella magia di quei ricordi con Salvador al suo fianco Fernando, Margarita, Alonso, e Cruz si ritrovano per prendere il tè Durante il momento conviviale, Margarita comunica ai marchesi che lei e suo marito hanno deciso di prolungare la loro permanenza alla promessa per qualche giorno in più Accettando così l'invito di Alonso, Cruz esprime il suo auspicio che in quei giorni i vari malintesi possano essere chiariti, e che gli animi si possano placare Spera che durante questo periodo si possa risolvere la situazione con Martina, così da poter poi tornare a casa con una maggiore serenità d'animo Anna si reca nell'ufficio di Pia, perché è preoccupata per lei, notando un comportamento strano e diverso dal solito Vede Pia visibilmente agitata e angosciata Inizialmente, Pia cerca di nascondere il suo stato, dicendo di star bene, ma alla fine si confida con Anna Pia le mostra la bottiglietta di cicuta che ha trovato nel cassetto di Gregorio Tuttavia, le chiede di mantenere il segreto, poiché vuole raccogliere prove concrete prima di accusare qualcuno Preferendo non recarsi alla guardia civile finché non è sicura della sua posizione Catalina nota Martina molto triste, e le chiede se stia bene Martina confida a Catalina che i suoi genitori hanno deciso di fermarsi alla promessa ancora qualche giorno Catalina si mostra felice per questa notizia, poiché significa che anche Martina potrà rimanere un po' più a lungo Martina, nonostante ciò, è consapevole che alla fine dovrà ritornare a Madrid Ma Catalina cerca di confortarla, suggerendo che durante quei giorni potrebbe risolvere le cose con i suoi genitori Le assicura che, quando tornerà a casa, tutto sarà migliore Simona e Candela parlano di Don Carlos, facendo delle supposizioni sul motivo per cui non si è presentato alle elezioni Ipotizzano che forse ha avuto un imprevisto ed è stato costretto a partire improvvisamente Tuttavia, Candela è preoccupata che qualcosa di grave possa essere accaduto a Don Carlos La preoccupazione di Candela è amplificata dal fatto che non possono uscire per verificare la situazione A causa della punizione inflitta gli da Pia, che le costringe a rimanere chiusi nel palazzo Ana, visibilmente nervosa, si dirige nell'ufficio di Romulo per esprimere la sua preoccupazione riguardo a Pia Notando un cambiamento nel suo comportamento, caratterizzato da stranezza e irritabilità Romulo, confermando di aver notato lo stesso, rivela di aver chiesto spiegazioni a Pia Ma questa non ha voluto rivelare nulla Successivamente, Romulo dice ad Ana che se vuole che l'aiuti a comprendere la situazione di Pia Deve condividere con lui tutto ciò che sa Teresa entra nella camera di Imena, e le comunica che, su ordine di Cruz, Ana non si prenderà più cura di lei Imena, visibilmente sorpresa e irritata, chiede a Teresa di chiamare immediatamente suo marito Manuel Gregorio entra nella camera dove trova Pia, e le chiede se possono passare cinque minuti insieme Tuttavia, Pia sembra avere fretta E Gregorio, notando il suo atteggiamento evasivo negli ultimi giorni, le chiede il motivo Pia risponde di essere solo stanca a causa della gravidanza che si avvicina al termine Ma Gregorio non è affatto convinto, e quando Pia esce Sospetta immediatamente che lei abbia trovato la bottiglietta di cicuta Intanto Martina comunica a Curro che la loro storia non può più continuare Ora che i suoi genitori sono lì, gli dice di dimenticarla e se ne va, lasciando Curro sorpreso e devastato Manuel entra nella camera di Imena e la trova lamentarsi perché Cruz ha impedito ad Ana di continuare a prendersi cura di lei Manuel cerca di calmarla, dicendo che in parte sua madre ha ragione Con una gravidanza complicata, è meglio essere seguita da un medico anziché da un assistente Imena cede alla logica di Manuel, ma rimane profondamente contrariata per l'ingerenza di Cruz Terminano così queste anticipazioni Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata